Su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Potenza, i carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Potenza nei confronti di Fedele Marotta, classe 1982, e di un altro soggetto rimasto irreperibile, indagati unitamente ad altri soggetti, sia noti che in via d'identificazione per estorsione aggravata, simulazione di reato e calugna. Il provvedimento cautelare segue una complessa attività investigativa svolta attraverso intercettazioni, escursioni di persone informate, perquisizioni, esami di tabulati e di smartphone da parte dei carabinieri di Salerno coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia Potentina. Il giudice ritenuto fermarestando la presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva la sussistenza di gravi indizi a carico degli indagati che in concorso tra loro, con azioni coordinate e dettagliatamente preordinate, alla fine del novembre 2023 avrebbero simulato un rapimento a scopo di estorsione per ottenere un ingiusto profitto economico in danno dei familiari di Fedele Marotta e segnatamente del cognato Angelo Pinto, imprenditore residente in provincia di Parma, marito di preziosa Marotta, sorella dell'indagato Fedele Marotta. In particolare emergeva sulla base degli indizi raccolti e segnatamente di testimonianze, messaggi telefonici acquisiti e delle intercettazioni che Fedele Marotta, il giorno del presunto rapimento a scopo di estorsione, avrebbe simulato di essere in procinto di incontrare, in zona di Padula, dei soggetti collegati al clan dei Casalesi che lui stesso, come raccontava la sorella preziosa nel corso di una concitata telefonata, intendeva dissuadere dal proposito di sequestrare i figli di Angelo Pinto e di preziosa Marotta. Poi, in una telefonata immediatamente successiva, Marotta, al momento del simulato incontro con i presunti malfattori, proprio per dare un'ulteriore apparenza di veridicità al sequestro, richiedeva, con toni preoccupati alla sorella, di allertare le forze dell'ordine. Ciò perché Marotta, a suo dire, per il numero di soggetti che erano giunti per incontrarlo, per il loro atteggiamento e per le stesse modalità con cui lo stavano approcciando, temeva che potesse succedergli qualcosa di grave. Successivamente, per quanto di costruito sulla base dei gravi indizi raccolti, gli indagati ed altri complici in via d'identificazione avrebbero simulato le tracce del sequestro di persona, di Fedele Marotta, lasciando l'auto di Marotta abbandonata in aperta campagna con i fari accesi di cellulari nell'abitacolo. Avrebbero poi inscenato, per otto giorni, durante i quali si mettevano reiteratamente in contatto telefonico con la moglie di Fedele Marotta e con la sorella di quest'ultimo, lo stato di prigionia di Fedele Marotta in un luogo segreto, al fine di costringere preziosa Marotta a versare un riscatto per la liberazione del fratello di 500.000 euro, non riuscendo però a consegnare il profitto a causa delle resistenze dei familiari. Grazie Grazie Grazie